A fuoco le palazzine popolari di Lecce in via Sozzi Carafa. In tarda mattinata infatti i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito ad una segnalazione. Arrivati sul luogo, la squadra ha trovato un incendio in atto all'interno di un balcone, sito al piano rialzato di una palazzina in stato di abbandono. Spente le fiamme, si è scoperto che l'incendio era stato generato dalla deflagrazione generata da una fuga di GPL da una bombola. Le fiamme, generate in seguito alla deflagrazione, hanno dato fuoco ad alcuni indumenti abbandonati. I vigili del fuoco hanno provveduto alla demolizione di una parte del balcone che risultava pericolante e a mettere in sicurezza l'area. Sul posto è giunto anche per le proprie competenze un tecnico del comune di Lecce.